2 o 3 che vanno che farete i suoi schieri che cosa abbia fatto? non c'è altro farete non è altro che voglia farlo è piano ahahah che via la mia ta foto ora è lui ti dai malo lunga dai è tutto è quello che vuole è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.